E ho deciso chi si aggiudicherà un posto nella nazionale e chi no. Ascoltatevi, sono il vostro nuovo allenatore. La nostra prossima tappa sarà affrontare il mondo intero! Non ci posso credere, questa è l'isola di Lyot. Va a guardare amico, colpo di Samba! Allora ci rivediamo, Marcus. Ruggito della tigre! Ero davvero impaziente di giocare contro di voi. Spada amicidiale! Excalibur! Andiamo a picchiere! Su forza! Sì! Grazie mille! Grazie a tutti.